Era una piccola puntualizzazione che mi pareva doveroso fare, visto che non sono neanche arrivati i ringraziamenti che dovevano essere rivolti alle ASL e al Napoli, perché abbiamo evitato di contagiare Ronaldo. Provate a immaginare, avessimo fatto, c'è stata già l'esperienza del Genova per la verità, avesse fatto il Napoli la stessa cosa, andiamo in allegria tutti positivi di virus e di spirito a fare l'incontro ai palloni e poi magari dopo una settimana Ronaldo positivo avremmo conquistato i titoli del New York Times.